E ora ci concediamo questa bella intervista che riguarda la corteggiatrice Valentina Pesaresi, ossia la corteggiatrice del tronista romano Christian Forti, che è stata intervistata da Magazine ossia dalla rivista ufficiale del settimanale Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove la studentessa e modella si è raccontata esprimendo il suo pensiero sul tronista romano, dopo due mesi di partecipazione sul suo trono. Insomma un vero e proprio bilancio della sua partecipazione a Uomini e Donne, dice la donna, Valentina Pesaresi. Anche se è passato poco tempo ci siamo dimostrati a vicenda un interesse abbastanza forte. Sicuramente impareremo anche a conoscerci di più e a capire meglio molti aspetti del nostro carattere. In un primo momento l'impatto è stato estetico, anche perché lui fisicamente è proprio il mio ragazzo ideale. Poi ho visto che i nostri caratteri sono abbastanza simili, siamo entrambi semplici e diretti. Sempre la stessa Valentina Pesaresi passa a raccontare che cosa l'abbia colpita maggiormente del troncita romano e infatti racconta che Mi piacciono molto la sua bontà e la sua sincerità. Apprezzo davvero tanto quando un ragazzo riesce a dire la verità. Poi c'è la sua sensibilità, e questo tratto della sua personalità mi fa rispecchiare molto in lui. Anche se a volte emerge un lato più furbetto penso che Cristian abbia un grande cuore e che abbia tanto da dare come persona. E conclude dicendo sempre la corteggiatrice Valentina Pesaresi in merito al tronista Cristian Forti che Devo capire se è maturo abbastanza, questo ancora non mi convince ma è presto per dare giudizi definitivi. Con il tempo capirò meglio il suo comportamento, ne sono sicura.